Mice giallo-blu qui nel post-gara di Elas Verona, Cremonese, prima gara di ritorno del campionato Primavera 2. Siamo qui con Bogdan Jochic, centrocampista della formazione giallo-blu. Oggi la prima doppietta con la maglia giallo-blu, si è tolto grandi soddisfazioni. Sono molto contento dei gol segnati questo pomeriggio della prima doppietta dei primi gol. Con la maglia giallo-blu, contento soprattutto per il risultato che è arrivato oggi qui all'antistadio. Il mio obiettivo ovviamente nei prossimi giorni è quello di segnare ancora di più per la maglia dell'Elas. La prossima settimana arriva l'impegno in Coppa Italia contro il Cagliari, una gara molto difficile. Bisogna andarsi a conquistare i quarti di Primavera Team Cup. La Cagliari sarà una gara veramente difficile contro un avversario molto molto tosto. Una buona posizione di classifica, insomma le sensazioni, vista anche la gara di oggi, sono positive. L'obiettivo è andare a Cagliari per fare il risultato e per giocare una grande partita. La prossima settimana.